ciao ragazzi bentornati video assolutamente interessante per voi che siete innanzitutto come sempre super tecnicamente fantastici canale sempre dalla parte degli utenti grazie dei like e delle iscrizioni campanellina notifico oramai che arrivano abbastanza puntualmente situazioni google risolto ma prima di tutto il super saluto a un utente molto particolare robin hood il nome dice tutto se tiri la freccia mi sposto avvisami comunque robin hood ciao utente più veloce a commentare in questo video saluto super nel prossimo video che se robin hood o non robin hood verrà sempre salutato con molto piacere situazione operatore mobile ma prima un qualche notizia veramente interessante fiore all'occhiello team aumenta la sua copertura 80 per cento per la linea fissa 98 per cento popolazione linea mobile potenza il suo 4g plus vodafone ovviamente con la rete 4g network in ampliamento iliad partono i lavori per la costruzione della nuova rete si parla addirittura di fine 2018 prime antenne accese beh queste sono notizie forse questo blackout che c'è stato in questi giorni ha portato il da pensare forse muoviamoci un attimino prima che incominciano ad accendere la propria rete speriamo che sia che sia un segnale molto positivo quindi reti in ampliamento e il led che parte forse con la sua rete in anticipo quindi ci sarà veramente da vedere delle belle plintron in arrivo in futuro di cui farò un video ancora più specifico tra un po con dedica ultima notizia pre video arriva una tariffa shock di un operatore dovrebbe arrivare l'ho scritto anche su telegram dove potete contattarmi sia pagina facebook instagram su messenger telegram ho dato delle notizie che sono assolutamente non ufficiali non c'è nulla di certo si parla di una tariffa shock di un operatore che poi potrebbe non arrivare mai ma se arrivasse è veramente pazzesca state collegati che arriva subito il video se la tariffa arriva allora situazione attuale delle tariffe cambiare operatore cosa conviene come portabilità e come nuova attivazione questo è lo scopo del video allora le nuove attivazioni non c'è moltissimo da dire sarò breve sia team che vodafone si assomigliano cioè tutte e due propongono 20 giga a 9 99 con minuti illimitati ma c'è una differenza team propone 20 giga minuti limitati a 9 99 parlo di nuova attivazione da sito da negozio senza portabilità eccetera eccetera senza win back e vodafone però va a migliorare in questo momento vodafone ha preso un po secondo me di vantaggio nel discorso commerciale marketing su team perché offre anche gli sms limitati a 9 99 20 giga in minuti limitati quindi ci butta anche dentro gli sms con i social chat che non consumano i giga secondo me è un po più completa della 9 99 di nuova attivazione di team quindi mi sembra che ci sia un qualcosina di meglio ad attivare una nuova sim di vodafone parlo di nuova di nuovo numero attivabile senza portabilità cerco di essere chiaro dei due vedo vodafone con un'offerta un pochino più allettante wind 3 ormai fanno un unico offerta anche qua parliamo di 9 99 circa dagli 8 allora wind propone un 8 99 30 giga minuti limitati non male un euro in meno con 10 giga in più h3g siamo sui 9 99 con i 60 giga e i minuti limitati anche qua i prezzi sono più o meno standardizzati tutti e tre c'è wind che scende un pochettino sulla nuova attivazione più o meno poi anche il contenuto di giga uguale iliad invece sempre 7 99 quindi prezzo più basso degli altri 50 giga tutto il limitato con gli sms con le chiamate anche all'estero quindi come nuova attivazione assolutamente iliad rimane la scelta migliore senza vincoli per sempre con il prezzo più basso degli altri che ho e offre di più e pro e contro vettim vodafone super rete veloce h3g wind rete discreto buona iliad ottimo prezzo qualità e tutto però la rete che in questo momento è in blackout che sta leggermente migliorando vedo degli speed test arrivare e speriamo che continui a migliorare si vada verso la propria rete però al momento una rete in difficoltà andiamo a parlare invece delle offerte di win back qui il discorso cambia cioè portabilità diciamo che sono tutti contro uno tutti contro due nel senso che la maggior parte delle offerte per rientrare cioè di portabilità la maggior parte sono di rientro cioè sono andato praticamente sono tutti versus iliad o versus o praticamente se sei un cliente iliad o di un operatore virtuale che può essere o o altri operatori virtuali ai delle offerte questo per combattere il fenomeno il della rivoluzione i prezzi più bassi tutti i clienti che sta portando via che ha portato via ai nuovi operato agli operatori nostri di conseguenza ci sono tantissime offerte che gli operatori fanno se proviene dai da altri operatori virtuali come questa cosa può essere occupo voce poste mobile insomma questo è un po il discorso per esempio partiamo da tim tima l'iron che offre a 6 99 al mese 6 euro 99 50 giga divisa 47 più 3 con quel metodo un po particolare più i minuti illimitati l'offerta è anche in se buona 6 99 50 giga minuti illimitati con team con una rete come quella di team è buona peccato che mancano gli sms i soliti vincolini se esci prima dei 24 mesi ne abbiamo già parlato eccetera eccetera la fai vai per go non l'ho citata perché non è più attivabile a 5 euro avevate tutto il pacchetto era ancora medio mancavano sempre gli sms c'erano comunque i vincolini questo per chi proviene dai operatori virtuali per quanto riguarda vodafone vodafone ha un'interessante offerta anche le 6 99 50 giga minuti illimitati per chi proviene appunto degli operatori virtuali ma in questo caso i 50 giga sono netti cioè non c'è il 47 più 3 che poi alla fine anche quelli di t in 47 sono sempre 50 sempre in 4g plus però diciamo non c'è diciamo differenza tranne il 47 più 3 che team applica e vodafone lì da tutti stesso prezzo stesso bundle mille minuti 50 giga un po vedete fanno cartello team e vodafone a far rientrare ovviamente da operatori mobili dei led con più o meno lo stesso prezzo è sempre stato un po così il mercato no diciamo le due sorelle un po alleate e poi c'erano wind e 3 che erano un po più indietro adesso le due sorelle si sono un po alleate verso magari tutti gli operatori virtuali iliad o un po verso wind e 3 insomma è sempre così chi ha più potere ovviamente cerca di spingere di più commercialmente di non andare ovviamente a scontrarsi con l'altro anche se poi alla fine anche wind e team si fanno concorrenza si scontrano e cercano di togliersi i clienti a vicenda dall'altra parte troviamo wind e 3 che ha un'offerta che va dai 6 no dai 5 99 6 90 ai 6 99 7 99 tutti e due sia h3g che wind sui 7 euro circa centrato offrono 30 giga minuti illimitati i wind anche gli sms illimitati sempre se provieni da il da team anche da lì qui anche da team e da vodafone da o mobile in alcuni casi quindi anche dagli altri operatori nostri anche h3g una giopata sono sempre da operatori virtuale da iliad comunque sui 6 99 ci sono questi 30 giga con chiamati illimitati o anche gli sms come nel caso di wind un'offerta abbastanza in linea con i prezzi che hanno team e vodafone forse con 20 giga in meno però più o meno siamo sempre lì in quella forbice di prezzo quindi si va un po allineare le altre due offerte diciamo che le offerte di windback si assomigliano un po tutte poi se vogliamo parlare di kena c'è la star che se proviene appunto da iliad eccetera ai 5 euro coi 50 giga però c'è il limite di banda è il solito discorso rischio rimodulazione eccetera eccetera e sappiamo bene di cosa stiamo parlando poi o mobile secondo me la migliore offerta di windback 4 99 ti da gli sm cioè tutto il pacchetto illimitato compreso gli sms ne abbiamo parlato però anche qua rischio rimodulazione limite di banda 30 mega e comunque un operatore virtuale questo è un mio cruccio come sempre però l'offerta di windback sicuramente del momento più interessante è quella di o mobile anche con le limitazioni c'era la a5 hypergo che poteva competere anche se non aveva gli sms che però non è più al momento non è attivabile poi si torna ad essere attivabile vi avviso così se qualcuno è interessato può sempre farla poi cosa rimane rimane da commentare iliad da solo che non ha offerte di windback perché iliad è lì 7 99 attivate una nuova sim 50 giga chiamate sms limitati chiamate dall'estero pacchetto completo zero vincoli diciamo l'offerta sempre più completa con un prezzo sempre molto competitivo è chiaro che se il windback gli altri giocano sul fatto che tu rientri quindi ti abbassano l'offerta però il dad è sempre lì con un prezzo ottimo strepitoso gli altri lo hanno addirittura abbassato un windback ma sulla nuova attivazione rimane comunque il della più bassa sul windback no rimane lì con la sua offerta 7 99 50 giga con la come nuova attivazione al momento non esistono ancora offerte di windback e di iliad pro e contro come vi dicevo anche prima sia vodafone che team una rete velocissima funzionale o mobile comunque 30 mega ma sono 30 mega garantiti che anche lì c'è il limite di banda ma è un limite di banda garantito e quindi qua un po a voi la scelta se voler fare questo windback quindi questo cambio versus o mobile o kena che sono due operatori virtuali o andare in team e in vodafone a un euro in più un euro sono due euro in più rispetto a è un euro in più rispetto a no due euro in più rispetto a tutte e due perché sia kena che o mobile ogni 5 euro o spendere i 6 99 per andare con la rete diretta di vodafone e di team questo poi sta a voi decidere se può essere conveniente dall'altra parte ovviamente c'è il discorso appunto operatore virtuale o operatore fisico tutte quattro le cose insomma si 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 assomigliano un po nel tipo di offerta che c'è il prezzo più basso sullo stesso che poi sono sempre team e vodafone che hanno i loro due operatori virtuali che giocano sul prezzo per quanto riguarda win3 se volete passare alle offerte sono quelle lì però la rete non è soddisfacente come quello il problema di il in questo momento della rete che è un pochino è un po in difficoltà direi però prospettive buone miglioramenti in vista già in questi giorni è nuova rete in arrivo insomma c'è un mercato veramente interessante se volete passare dal vostro operatore attuale a un altro trovate offerte di ogni tipo e genere se siete clienti iliad insoddisfatti potete tentare il cambio verso magari chi ha qualche vincolo in più qualche rischio rimodulazione però a un prezzo eccellente con comunque una banda garantita quindi potete provare se volete passare da team a vodafone trovate comunque a 6 99 sempre offerte interessanti comunque a 9 99 se volete attivare una nuova sim c'è comunque sempre un pacchetto di 20 giga con minuti illimitati insomma sotto dei 10 euro in giù trovate di tutto di tutto di più come trovate sempre 4kp tech di paolo guala che vi saluta bacio a voi che siete super tecnicamente fantastici come sempre ciao alle prossime